L'ANAS, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha consegnato gli interventi di ripristino della strada statale 177 Silana di Rossano. Gli interventi interessano più punti della statale e riguardano, tra gli altri, la ricostruzione del tratto della statale, interessato da un evento franoso in corrispondenza del chilometro 36 nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza, per il quale si è reso necessario interdire il transito veicolare. I lavori sono stati consegnati per un importo complessivo di investimento di circa 1.700.000 euro.